Ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, restano rallentamenti per traffico tra Calenzane e BV1 Variante in direzione di Bologna. Ricordiamo la chiusura della panoramica in A1 verso Firenze fino alle 18 di oggi per lavori di manutenzione, percorsi alternativi sui nostri canali social. Ci spostiamo sulla 12, due chilometri di coda per lavori tra Versilia e Massa in direzione di Genova. Code per lavori anche in Fipili, anche in questo caso per due chilometri tra la Strassigna e Ginestra in direzione di Livorno. In carreggiato opposta restano rallentamenti per traffico tra la Strassigna e Firenze e Scandicci. Uno sguardo alle statali sul raccordo Siena-Firenze fino a venerdì 6 ottobre, per lavori sono chiusi gli svincoli di Tavarnelle in direzione di Siena e di Poggi Bonsi Nord in direzione di Firenze. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto da Agnese Fedeli, un buon proseguimento d'ascolto.